E' scattato questa mattina un blitz dei ROS supportati dai militari dei comandi provinciali di Torino e Cuneo nei confronti di un gruppo di estremisti di destra attivi in Torino. Le indagini estese alla provincia di Torino e di Cuneo hanno visto impegnati oltre ai carabinieri le unità specializzate dei vigili del fuoco. Quattro le ordinanze di custodia cautolare in carcere emesse dal Tribunale di Torino su richiesta del gruppo antiterrorismo della Procura. Quattro le persone indagate responsabili di tentato omicidio aggravato e continuato di produzioni di aggressivi chimici. Allora la vicenda è stata una vicenda portata avanti nella misura in cui sono stati attenzionati alcuni personaggi che volevano uccidere un'altra persona per motivi passionali cercando di portare avanti e creare dai semi della ricina della ricina che poi sarebbe stata utilizzata inserendola in una bevanda per uccidere una persona. Questa bevanda per problemi chimici dovuti alla troppa presenza di alcool, la ricina non si è sciolta, anzi si è portata sul fondo del bicchiere e non ha portato alle conseguenze che si sono portate. Questo ha portato avanti prima una serie di attività nei confronti di chi aveva prodotto la ricina e in un secondo momento quando è stato provato che la ricina era effettivamente estremamente pericolosa ed esisteva sono stati stamattina arrestati su ordine custodia cautelare della Procura. Colonnello, quant'è letale la ricina? La ricina è pericolosissima perché è pericolosa sia nella preparazione, si prepara da dei semi di ricino sia nel trasporto che nell'utilizzo stesso, quindi è impensabile pensare un'altra volta di riproporre una cosa del genere. Bisogna stare molto attenti, tant'è vero che come avete visto poi alla fine le attenzioni sono sempre portate al massimo per portare queste persone a essere inoffensive. Volevano uccidere come nella serie televisiva Breaking Bad. Sono tentato omicidio, preparazione di sostanze chimiche diciamo così pericolose e poi c'è la costruzione, il tentativo di costruzione di una pistola per l'utilizzo della stessa. La ricina era prodotta abusivamente in un garage di Bra. L'ambiente, lo dicevamo, è un ambiente particolare però bisogna stare attenti, non c'è nessuna valenza e sottolineatura politica ma esclusivamente è un crimine passionale. Erano tre persone che stavano preparando, anzi quattro, un'attività contro un personaggio che aveva in atto una relazione nei confronti di una persona al loro vicino e quindi non volevano che si portasse avanti. Non ci sono nessuna attività di tipo politico in questo senso.